I decessi odierni sono 25, età media 79 anni con il 95% di patologie pregresse. Il più giovane aveva 57 anni, il più anziano 96. Salgono a 477 i decessi totali dall'inizio dell'epidemia nelle Marche, registrata al momento la morte di 322 uomini e 155 donne. Solo nella provincia di Pesero Urbino dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 283 vittime del virus. Sono in calo invece i ricoveri per Covid-19 nelle Marche, da 1165 a 1115. I pazienti dimessi salgono a 186, mentre altri 21 sono guariti. Lo fa sapere il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie. Tra le persone ricoverate ci sono 169 in terapia intensiva, 299 in semi-intensiva, 492 in reparti non intensivi e 155 in area post-critica. Mentre le persone contagiate dall'inizio dell'emergenza sono 3.825. In 2.237 sono in isolamento domiciliare. Sempre isolate in casa per semplice contatto con persona positiva, ci sono 6.798 persone, 1.939 con sintomi, 4.859 asintomatici, tra cui 768 operatori sanitari, dato in sensibile crescita. Complessivamente a registrare il maggior numero di contagi è la provincia di Pesaro-Urbino, 1.664, seguita da Ancona, 1.116, Macerata, 493, Fermo, 259 e Ascoli-Piceno, 222. I positivi presenti, ma provenienti da fuori regione, sono 71.